Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore Ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori Allora Vincenzo, ricordiamo brevemente la tua presenza qui è fondamentale per trattare di queste tematiche perché oltre ad essere un ex dirigente bancario, sei l'autore di Io so io le prove edito da Chiarelettere, hai la società di consulenza aziendale specializzata nel banking e nella ristrutturazione del debito, la InMind Consulting e ti occupi oggi proprio di aiutare la gente ad avere rapporti sani con i propri istituti di credito alla luce anche del prossimo libro che uscirà a breve che si chiama Io vi accuso, quindi insomma lì secondo me ci divertiremo parecchio, divertiremo per modo di dire Ci divertiremo nel senso che continueremo a fare questa opera di divulgazione di questi piccoli segreti, di questi maneggi, di queste alchimie che in 22 anni di banca ho visto fatto, realizzato e infine raccontato Ecco noi in questa settimana abbiamo trattato un argomento molto importante perché si è parlato delle tendenze, nuove tendenze delle banche e le siamo andate un po' a smascherare perché ci siamo resi conto che parlando di queste nuove tendenze che sembra tutto a favore di imprese, di piccoli imprenditori, grandi imprenditori, insomma in realtà poi c'è sempre qualcosa dietro che non va Sì parlavamo della presunta ripresa di erogazione dei finanziamenti a famiglie e piccoli imprenditori e abbiamo visto che nel caso dei mutui si tratta di un blef perché sono prevalentemente surroghe quindi sostituzioni di mutui già esistenti Nel caso dei finanziamenti alle imprese si tratta di finanziamenti alle medie e grandi imprese non alle piccole imprese Ecco e alla luce di tutto questo parlando poi della nostra quotidianità, dello stato attuale del nostro paese che è in crisi mi sono venute in mente altre domande da farti molto semplici ma sono sicuro che parleremo per un bel po' Quindi restate con noi che fra pochissimo entreremo un po' più nel dettaglio in queste realtà Piazza Povio 32 con Marco Pesacane e Vincenzo Imperatore Allora Vincenzo tornando a questi finanziamenti che ci sono, in realtà non ci sono, c'è questa crisi Insomma qual è la realtà? Questa crisi da questi personaggi che vivono di economia e che dovrebbero essere anche l'economia del nostro paese ma la potevano realmente prevedere? Questa crisi? E innanzitutto mi stai facendo un cross di quelle che merita Di quelle che devi solo metterla dentro La palla dentro Con tanta semplicità Allora è vero, è una delle crisi più lunghe del nostro secolo, sono già otto anni di recessione Ma mi chiedo, il mestiere di una banca che presta denaro non è forse quello di prevedere anche il rischio derivante da una crisi così lunga? Poi è stato sottovalutato dai loro studi economici? Anche perché questo è in netto contrasto con quella famosa questione che c'è un aumento di quel famoso 16% di cui parlavamo anche nell'altra puntata Dei finanziamenti C'è un aumento di finanziamenti ma il saldo tra i soldi dati a prestito e i soldi ritirati da chi aveva già dato soldi a prestito È sicuramente negativo Quindi sto facendo restituire soldi molto di più di quanti non ne stia erogando Quindi anche questo è un falso problema Ma ripeto, questi famosissimi uffici studi di queste grandissime multinazionali Parecchie banche, due o tre del nostro paese sono delle vere e proprie multinazionali Non dovevano prevedere che la crisi durasse tanto O hanno sottovalutato questo problema? E poi mi faccio un'altra domanda Ma se attribuiamo sempre tutto alla crisi e a questi famosissimi rating di Basilea 2 Che hanno determinato la cosiddetta stretta del credito Quindi andiamo a prenderci soldi da quelle aziende che presentano dei rating negativi E quindi facciamoli restituire Mi chiedo, ma non è forse il caso di verificare che questi rating sono falliti? Che era meglio quello che una volta era il fiuto del direttore Che non aveva rating a disposizione Ma aveva una preparazione abbastanza profonda Sull'analisi di bilancio Che andava presso le aziende a rendersi conto Quanti operai aveva Che portafoglio crediti aveva Come lavorava i suoi prodotti E quindi determinava un'erogazione fatta effettivamente di una valutazione oggettiva E non di un'equazione matematica, un algoritmo che ti dice sì o no Sulla base di quattro numeri Che poi il più delle volte abbiamo visto che è fallimentare Perché questa crisi dura da otto anni Poi una soluzione reale non si è avuta Sì, e credo che nella storia non ci sia mai stato un aumento delle sofferenze bancarie Quindi di aver sbagliato a dare soldi alle imprese Quanto lo è stato negli ultimi anni Quindi figlio della generazione di Basilea 2 Ma allora il problema possiamo dire che non è di situazione Dove tu dici vabbè c'è traffico Siamo bloccati qua Fino quando non si sblocca lì davanti Non si va da nessuna parte Il problema è che noi stessi ci lamentiamo di questo traffico E stessi i personaggi che dovrebbero risolverla questa crisi Non la risolvono Ma qui delle due l'una O il sistema di rating proposto con i criteri di Basilea 2 Non ha funzionato E quindi andrebbe cambiato E quindi andrebbe cambiato O il sistema funziona ma non è stato usato adeguatamente E di questo parlerò approfonditamente nel secondo libro in uscita il 16 ottobre Perché il 16 ottobre? Perché sono napoletano e scaramantico Io sulle prove è uscito il 16 ottobre dell'anno scorso E quindi ci sembra giusto che la data ha portato bene Oppure un misto delle due Quindi cosa facciamo? Continuiamo a fare questi danni qua Quindi è sbagliato il sistema del rating Che non individua con attenzione le imprese a cui poter fare buon credito O il sistema del credit funziona bene Ma è stato manipolato Cioè ho dato nonostante il rating mi dicesse dieci anni fa Che io non potevo dare soldi alla pesa cane SRL E io li ho dati All'epoca l'ho manipolato E lo sto manipolando anche oggi Quando il rating mi dice che devo restituire Mi devo far restituire i soldi dalla pesa cane SRL Questo per dire anche che bisogna un attimino abbattere questi miti Il rating di Basilea 2 Se è vero che nella storia mai si è verificato Si è verificato che tante sofferenze Quindi tanti crediti sbagliati da parte delle banche Abbiano raggiunto questi livelli di questi ammontari Mai verificato delle due l'uno O è sbagliato il sistema del rating o l'abbiamo utilizzato male Secondo te? Secondo me è stato avendo avuto esperienza diretta È un po' un misto delle due Il sistema del rating è ancorato ancora a dei criteri ante crisi Ok E io valutavo Che non funziona con un periodo di crisi Dopo 8 anni di crisi non posso pensare che una piccola impresa Non abbia oggi avuto una pregiudiziale cosiddetta Cioè un pignoramento da un dipendente perché non è riuscito a pagarla in tempo 9 su 10 Ok Non posso pensare che dopo 8 anni di crisi Non ci sia un'azienda che abbia avuto Un pignoramento da Equitalia 9 e mezzo su 10 Perché non è riuscito a pagare tutte le tasse La crisi è stata talmente lunga Se noi continuiamo a mettere dentro questi numeretti E il rating mi esce negativo Vuol dire che siamo dei ciechi Perché dopo 8 anni 9 piccole imprese su 10 Hanno avuto quel tipo di problema Quindi è sistematico che il rating è negativo L'altra considerazione è che ne sono come dire Artefice e attore I rating sono stati manipolati spesso Cioè nonostante la macchina ci dicesse che quei soldi non bisognava darli a quell'azienda Non si è seguita la regola C'era la cosiddetta valutazione soggettiva Va bene non ti preoccupare No Io garantisco io Per la situazione Contravvengo anche alle indicazioni dell'algoritmo Più di fare E qui non stiamo parlando di mala fede E qui stiamo parlando di perfetta buona fede Cioè è cresciuta una generazione di direttori di banca Che non aveva più la formazione che avevamo 20 anni fa Quindi mesi e mesi di studi Di analisi di bilancio Benissimo La valutazione soggettiva di questi nuovi direttori di banca Che non avevano quel tipo di formazione Era fatta sulla base della sensazione Sulla base non dico del simpatico meno Ma innanzi insomma non sulla base di elementi soggettivi Non si va in un'impresa a vedere Quanti operai effettivamente ha Non quelli scritti Eh certo Al libro paga Quanta produzione sta a terra Quindi quanto magazzino ci ha invenduto No Tutte queste Come dire Questo know how Queste skills che avevano i vecchi direttori E ahimè insomma Mi ci metto dentro Anche io Perché a 52 anni ho avuto quel tipo di Di formazione Tutto questo viene a mancare Quindi la manipolazione Diciamo così In perfetta buona fede È determinata da Un'assenza assoluta di formazione Al riguardo Mischi le due cose E determini La quotidianità che abbiamo oggi E determini quel cataclisma Che oggi vivono le banche Fra pochissimo ancora ulteriori approfondimenti Anche per cercare di capire Se esiste a questo punto Una via d'uscita Alle problematiche che abbiamo appena trattato Siete a Piazza Povio 32 Con Marco Pesacane E Vincenzo Imperatore Stavamo parlando prima di questi rating Che Sono Sono sbagliati Abbiamo capito che Commettono Un Un errore No? Cioè nel senso Non permettono Una giusta ripresa In questo momento Forse Li definirei Anacronistici Nel senso che Erano Erano dei criteri di selezione Antecrisi Oggi sono un po' superati Cioè se inizio a immettere in questa macchina Che determina questo algoritmo Questo voto Che si dà all'impresa Per decidere se gli do O non gli do I soldini Teneva conto di Parametri Che sono ormai superati È evidente che dopo 8 anni di crisi Il fatturato di un'azienda è diminuito È evidente che gli utili sono diminuiti È evidente che avrà preso un pignoramento da Equitalia Ci sono elevatissime probabilità Se questi elementi Messi in questa macchina Continuano a dare voti negativi Vuol dire che noi non sappiamo leggere l'attuale realtà Quindi dovrebbero essere ritarati Riponderati Come si dice nel gergo Affinché si tenga conto anche di altri fattori Uno su tutti Se l'azienda Le signore esposero sempre A cui facciamo riferimento Che è qui giù Al palazzo Continua ad avere Lo stesso numero di dipendenti Che aveva nel 2005 Questo è un valore Certo Cioè Quella persona Nonostante la crisi Nonostante il fatturato sia calato Nonostante gli utili siano calati Mantiene 5 milioni Nonostante il pignoramento ricevuto da Equitalia Perché non ha pagato una tassa Continua ad avere 8 dipendenti Vuol dire che ha salvaguardato La forza lavoro E il livello occupazionale della sua impresa Pagando probabilmente Prima i suoi dipendenti E poi E poi Non ha pagato la tassa La Tarsu E poi Non si è portato a casa lui qualcosa di soldi Per farsi Per farsi la pagata Questo è il valore Che bisogna prendere in considerazione Per il piccolo imprenditore Dopo 8 anni di crisi Che è un elemento che Vista Equitalia Visto quello Non viene tenuto in giusta considerazione Perché il meccanismo di rating È obsoleto Il meccanismo di rating Ti tiene ancora conto di quei parametri Anticrisi Perché effettivamente Tu che sei Un piccolo imprenditore Riesci a tenere in vita Delle famiglie Perché continui a farle lavorare Secondo me è un valore aggiunto notevole Perché vuol dire che si stanno facendo Gli sforzi veramente È un santo È un miracolo Sta facendo un miracolo In questo momento Perché di fronte a questo miracolo La Tarsu Diventa molto più importante Di un tot di famiglie Che stanno ricevendo regolarmente Lo stipendio No non è proprio così In Italia il rapporto con il fisco È un po' diverso Non percepiamo Come dire L'efficienza Ma forse ha ragione Soprattutto dalle nostre parti L'efficienza insomma Del pagamento delle tasse Quindi Posponiamo Il pagamento delle tasse Al pagamento Dello stipendio Al dipendente Il problema è un altro Il problema In banca Chi si stava accorgendo Durante questi otto anni Che si iniziava ad imbarcare Un mare di sofferenze Cioè che le aziende Non ce la facevano più A restituire i soldi Hanno pensato Che forse In alternativa Al sistema del rating Si doveva ritornare Al vecchio sistema Del fiuto Del naso Del direttore Che aveva creato Innanzitutto Molto meno guasti Del passato Quindi funzionava meglio Del rating Dato oggettivo Anche perché diventa Situazionale Come dire L'osservazione di una realtà Cioè Se tu applichi un rating A tutte le realtà Che sono diverse tra di loro Forse è anche qui Che non ci troviamo Per questo un fiuto Di un direttore Può essere importante Perché a seconda Della situazione Perché oltre ad avere Una formazione particolare Quindi che sapeva leggere I bilanci Cultura che si è persa Completamente Negli ultimi anni Ma fiutava Le voci Su cui si passavano I pagamenti dell'azienda Parlava con gli operai Andava a fare Capatine serali nei capannoni Si rendeva conto Di quanta merce a terra Aveva E da lì Ricavava Con competenza E know-how specifico Ricavava l'idea Che quell'azienda Al di là dei numeri E al di là Di quegli elementi Oggettivi Il pignoramento Presentava una vitalità Che in un momento Di crisi Non era ben evidente Attraverso l'analisi Solo dei semplici numeri Mi sovviene il mio vecchio romanticismo Che spesso mi hai criticato In passato Quindi Un vecchio direttore Non solo numeri Ma anche sensazioni Non solo numeri Ma preparazione Più che sensazione Ok Il romanticismo Me lo boccia sempre Ma valutazione Sei troppo romantico Eh purtroppo Perché con le sensazioni Si sbaglia Né si può fare In questi casi poi Né si può fare business Con le sensazioni Ma con la preparazione Ero capace Di fare una valutazione Che molto spesso Era migliore Di quella del rating Però non si torna indietro No o meglio Non si cambia La situazione Non si cambiano le cose Come possiamo Realmente uscire Perché poi per me Di come dire Io vorrei sempre Trovare La via d'uscita No In questo momento Qua le banche Non possono uscire Benissimo Perché il loro bilancio E lo ripetiamo N volte Il loro bilancio Presenta più Più problemi Di quanto Non lo presenti Il bilancio Del signor Il mitico Signor Rossi Rossi sta sempre a nord Non è esposito Rossi a Milano È esposito qui giù Al palazzo Il problema è un altro Il problema è Come posso Immediatamente O in un arco di tempo Come dire Sostenibile Invertire la tendenza Che non lo posso fare Dall'oggi Al domani Lo sai che io Non ce l'ho la risposta A questa domanda Quindi tocca a te Allora Innanzitutto Attraverso I nuovi strumenti Di finanza alternativa Di cui abbiamo parlato Ok I privati Il peer to peer I social lending Ok Tutti questi strumenti nuovi I mini bond Cioè Delle piccole obbligazioni Fatte per le piccole Per le piccole imprese Il corporate barter È un strumento È un strumento È un modo di rispondere Alla dipendenza Delle aziende Delle piccole imprese Dal sistema bancario Il secondo è Carissimi signori bancari Fate presto Ma prestissimo Perché il rating Vi sta uccidendo Cioè si stanno uccidendo Con le loro stesse Con le loro stesse mani Hai mai sentito parlare Della centrale rischi Sta mitica centrale rischi Che viene spesso nominata Per cui Avete questo problema In centrale rischi Ok Ok E l'avete consultata Per tanti anni A cosa è servita Questa centrale rischi Non avete avuto Un segnale predittivo Non avete avuto Una possibilità Di capire Se quell'azienda Stava in difficoltà O meno Anzi State imbarcando Ancora più Contenzioso Quindi Sistemi sbagliati Mezzi sbagliati L'adeguamento veloce Del sistema bancario Immediato Per altrimenti La situazione Per loro È davvero È davvero critica Strumenti Di finanza alternativa Controllo Solo da parte Degli organi Come BCE Oppure Insomma Consob O altre Affinché questi Parametri Siano ben Ho un'ultima domanda Per te Ma ce la teniamo Per le conclusioni Fra pochissimo Siamo alle conclusioni Anche di questa puntata Di Piazza Boveo 32 Vincenzo Abbiamo capito Che Il sistema di rating I personaggi I modi di ragionare Che si stanno Utilizzando In questo momento Nelle banche Per i finanziamenti Sono Sbagliati Abbiamo appena detto Che ci vorrebbe Un cambio di rotta Che si dovrebbe Attuare Nuove frontiere Per risollevare I commercianti Gli imprenditori I piccoli imprenditori Per risollevarli Da questa crisi Il problema però È che Questo cambiamento Non è immediato Come può fare Il piccolo imprenditore Oggi Che comunque È immischiato In questo sistema E non ha ancora Una valida alternativa Come può fare Per sopravvivere E per andare avanti Marco io vivo Quotidianamente Questi problemi Il 95% Della mia clientela Vive questo dramma Questo dramma C'è una soluzione Immediata Che è quella Di difendersi Nel momento In cui vedi cadere Le pietre addosso a te Questo è un momento In cui Prima che venga Ridata La forza Alla capacità Di fare credito Sia dai privati Sia da queste nuove piattaforme Sia dalle banche In questo momento Il piccolo imprenditore A mi piace soprattutto Parlare dei piccoli E dei micro imprenditori Deve difendersi Quindi deve mettersi In una situazione Di stand by Di attesa Magari Attaccando le banche Che gli vanno A chiedere soldi Lo facciamo sistematicamente Quando troviamo Non siamo dei furfanti Non siamo dei cialtroni Quando troviamo Oggettivamente Dei diritti Calpestati All'imprenditore Usura Anatocismo Induzione Al falso in bilancio Induzione All'evasione fiscale Violenza privata Tutti i reati Che sono ascrivibili A determinati comportamenti Delle banche Quindi inizio a difendermi Due o tre anni Di tempo Dura più o meno Un sistema di difesa Del genere Ok Congelo tutto E aspetto i tempi migliori In che modo? Iniziando A A Crescere in cultura Manageriale Ok Perché i nostri imprenditori Hanno questa Piccoli imprenditori Hanno questa carenza Due A formare la nuova generazione Il ricambio generazionale Deve essere formato Non entro in azienda Solo perché mi chiamo Esposito E sono il figlio di Esposito Perché posso essere Una testa di Eh certo E ho il diritto di entrarci Anche se non mi sono laureato Ma dimostro di valere Semplicemente perché mi chiamo Esposito Ok Quindi ho un diritto quasi divino A proseguire l'attività imprenditoriale Quindi formazione abbiamo detto Ricambio generazionale E terza ed ultima cosa Capacità di essere veloce nei cambiamenti La nostra piccola imprenditoria È stata abituata lentamente Al cambiamento Cioè non era velocissima Ad utilizzare la nuova strumentistica Non era velocissima a capire Quando era importante Il controllo di gestione Quando era importante Definire un business plan Quando era importante Guardare la finanza In maniera più approfondita Più veloci sono Ad adottare questi cambiamenti Qua più usciranno In maniera Quindi bisogna agire comunque Bisogna bisogna agire Perché la risposta poi è sempre quella Bisogna iniziare a contrastare Questo potere forte Questa realtà che Se continuo a fare le stesse cose Che facevo prima Otterrò gli stessi risultati Risultati esatto Quindi da questo non si scappa E non si scappa Che ovviamente Piazza Baleo 32 È qui il lunedì E il venerdì Per darvi tutte le informazioni Di cui avete bisogno Per vivere al meglio Il vostro rapporto con le banche Ovviamente Grazie alla preziosissima collaborazione E consulenza di Vincenzo Imperatore Grazie a voi Marco Un saluto a tutti Io sono Marco Pesacane E ci sentiamo alla prossima puntata Di Piazza Baleo 32